bene ciao a tutti vediamo vediamo in questo video vediamo autostima affermazioni ed azioni super potenti per l'autostima prima di affrontare il tema però iscriviti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video seguimi su instagram massimo tra masco ufficiale seguimi su tiktok e su tutti i miei canali youtube e veniamo al tema autostima azioni ed affermazioni super potenti per l'autostima allora se tu vuoi raggiungere un'autostima di fermo se tu vuoi raggiungere un'autostima forte e tieni presente che l'autostima è la percezione che tu hai di te stesso ma non la percezione superficiale perché a livello superficiale qualunque capra è in grado di dire io mi stimo io mi stimo e poi invece dentro di te pensi di non valere un cazzo e quindi devi imparare a comunicare con la tua parte emotiva finché il tuo potere emerga finché il tuo potere venga fuori fino in fondo e per fare questo devi comunicare con l'inconscio con la parte emotiva devi mandare dei segnali forti devi mandare dei segnali potenti alla tua sfera emozionale devi mandare dei segnali potenti al tuo inconscio attraverso delle azioni e quindi sono gli atti di coraggio che mandano un segnali molto forte che ti fanno raggiungere dei traguardi alti di autostima poi anche le affermazioni super potenti possono fare questo è un connubio tra azioni ed affermazioni ad esempio nelle relazioni sentimentali effettive quando hai qualcuno che non ti fa vivere le cose che vuoi vivere che non ti dà quello che tu vorresti che insomma si comporta come una merda nei tuoi confronti quindi lì devi tirare fuori le palle anche se sei donna diciamo così tira fuori l'ovaia tira fuori quello che vuoi e devi utilizzare rapidamente devi utilizzare rapidamente dei messaggi potenti che vadano a come dire a raggiungere l'inconscio dell'altra persona anche quando un ex vuole tornare e non fa però quello che vuole perché spesso gli ex vogliono tornare e riproponendoti la stessa zuppa riproponendoti la stessa salsa quindi la prima cosa la prima azione che tu devi fare in questi casi è alzare il telefono e prendere un bel respiro con calma se vuoi dare autostima iniziare in modo pacato mantenendo un tono morbido ah sì ho ricevuto caro il tuo messaggio mi fa tanto piacere che vuoi magari facciamo l'esempio dell'ex potrebbe essere anche in altri casi che vuoi riprendere la relazione vedendoci al giovedì sera al parcheggio del cimitero come al solito beh sì ho capito che non vuoi lasciare tua moglie giustamente per carità anche i tuoi figli ah fai bene fai bene guarda sono proprio come dire ti puoi dire sono proprio rassicurata ho rassicurato perché vale sia per le donne mi fa molto piacere perché sai e quindi è proprio dal profondo del cuore che ti dico vaffanculo è quello il vaffanculo è quello che come dire ti dà la carica di autostima quindi andando l'affanculo in diretta diciamo così in diretta in mondo visione e beh tu raggiungi un autostima veramente forte veramente potente perché comunichi al tuo inconscio che tu sei forte che tu hai energie che tu te ne fotti e ovviamente diciamo ci sono delle affermazioni super potenti che tu in parallelo puoi utilizzare per diciamo raggiungere la stessa potenzialità e questa cosa è diciamo fondamentale fondamentale per ottenere dei grandi risultati e l'affermazione che ti suggerisco poi ce ne sono tante è io sono la persona più importante del mondo perché questo devi mettere una testa tu per te stesso devi essere la persona più importante del mondo io sono la persona più importante del mondo io mi amo e mi accetto così come sono io sono la persona più importante del mondo io mi amo e mi accetto così come sono e affanculo tutti quelli che la pensano diversamente e quindi queste sono affermazioni potenti che tu devi fare però vanno correlata all'azione e c'è anche da dire un fatto fondamentale che queste affermazioni devi fartele puoi anche registrartele e mentre dormi mentre sei in fase di addormentamento tu te le registri perché nella fase di addormentamento quando la critica è abbassata diciamo la parte logica dorme si riposa la mente emotiva assorbe e quindi te lo registri se vuoi insomma io sono la persona più importante del mondo puoi anche citare il nome io massimo io tu come cat non mettere io tu metti il tuo nome ovviamente perché c'è quelli che io massimo sono la persona più importante del mondo io mi amo e mi accetto così come sono e fanculo tutti io sono quel che sono se ti vado bene e così se no fuori dai coglioni questa è un'altra affermazione che ti suggerisco ma anche è un'azione che ti suggerisco di fare verso quelli che ti chiedono di cambiare no? perché ci sono anche quelli che ti chiedono di cambiare io sono colui che è disse Yahweh a Mosè e non mi romperi i coglioni poi gli ha detto pure io sono colui che è e quindi tu rispondi io sono quel che sono se non ti vado bene come sono? fuori dai coglioni questa è un'altra cosa perché ci sono tutte le persone che ti vogliono cambiare ti vogliono trasformare ma mandali a fanculo ecco in questo modo la tua autostima crescerà tantissimo la tua autostima si potenzierà la tua autostima diventerà veramente potente e tu diventerai invincibile totalmente invincibile nessuno ti potrà più rompere il cazzo bene per questo video è tutto seguimi su Instagram Massimo Toramasco Ufficiale seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube e ti ricordo fai donazione al canale fai donazione al canale perché se il video ti è piaciuto fai donazioni che è dando che si riceve quindi fai sta cavolo di donazione al canale che è dando che si riceve oppure abbonati fai che cazzo vuoi ma fai qualcosa seguimi su Instagram Massimo Toramasco Ufficiale su TikTok e su tutti i miei canali YouTube bene per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo video